Spero che il contenuto di questa puntata sia stato di gradimento di chi sta guardando e vorrei semmai segnalare che sono disponibile a rispondere a quelle persone che eventualmente avessero dei dubbi o volessero pormi delle domande appunto su ufologia o cosmologia oppure su gli extraterrestri, i cosiddetti alieni. Comunque vi ringrazio per avermi seguito e speriamo di poterci incontrare in una prossima puntata. Quindi ringrazio in particolare la giornalista Veronica Pisano che mi ha contattato e mi ha invitato a fare questo ciclo di riprese e di incontri. Grazie a tutti.